Il Cardinale Crescenzio Sepe Organizzato dall'Associazione Cattolica Diocesana, presieduta da Maria Rosaria Soldi, il pellegrinaggio è partito come ogni anno dalla Basilica del Carmine Maggiore a Napoli ed ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli. La processione di questa sera ripercorre il tragitto che ha fatto il quadro che è venuto da Napoli a Pompei. Era il 13 novembre del 1875 quando dalla chiesa del Rosariello a Portamedina il beato Bartolo Longo, l'avvocato Bartolo Longo, ricevette questo quadro e lo affidò ad un carrettiere di Pompei che ritornava con delle tame e la Madonna fece il suo ingresso a Pompei. E questo pellegrinaggio annuale così sentito dai napoletani ripercorre quel tragitto proprio perché la Madonna di Pompei è nel cuore di tutti e tutti desiderano ritornare qui per ricevere conforto, per vedere nella mamma il modello da imitare. Un messaggio di pace soprattutto in questo periodo quando si sente sempre di più l'esigenza, non solo perché continuiamo ad assistere a questi venti di guerra, ma poi anche per noi qui a Napoli ancora questi ultimi giorni tanti morti, sei morti. Cioè sembra un bollire di odio, di violenza, di sangue che insanguinano le nostre strade, le nostre città e allora mai come adesso l'esigenza di rivolgerci alla Regina della Pace perché come Madre Buona, Madre della Pace, converta i cuori e soprattutto faccia capire il male enorme che si fa a se stessi, alla comunità, alla società.